Pochi intellettuali hanno lasciato un segno nella vita culturale new yorkese, americana e direi mondiale come Susan Sontag, morta ormai una quindicina di anni fa. In questi giorni esce a new york una biografia autorizzata dalla famiglia ma nello stesso tempo poi ripudiata o comunque rispetto alla quale la famiglia ha preso ampiamente le distanze. Ne autore Benjamin Moser che in passato ha scritto una biografia molto apprezzata di Clarice Lispector. Cos'è successo? Il libro è stato in un primo momento opzionato dalla Farrastrause Giroux e poi è stato rifiutato, passa in seconda battuta a un'altra edizione importante e prestigiosa come la Ecco Press, ma spacca completamente la critica e spacca soprattutto la percezione che si ha sul libro e prima ancora sulla protagonista da parte di coloro che l'hanno conosciuta. Le critiche sono miste. C'è il New York Times che lo ha elogiato anche in maniera decisamente calda, il New York che invece è molto più timido e in alcuni passaggi fa capire che non ha apprezzato l'angolo, come si dice in America, lo sguardo che ha utilizzato Moser per raccontare questa donna straordinaria. Cosa c'è che non piace? È evidente quasi dalle prime pagine che Moser non ami più di tanto il suo soggetto e da un certo punto in voi comincia ad attaccarla invece di raccontarla. Ora non è detto che una biografia debba essere necessariamente celebrativa, ma fa abbastanza impressione una serie di accuse pesanti che vengono fatti alla Sontag in prima persona, ma anche alcune persone a lei vicina come il marito Philip Riff, del quale arriva a dire che l'opera maggiore, ovvero Freud, la mente di un moralista, sia stata scritta in realtà proprio dalla Sontag. Si tratta di un qualcosa che in realtà non riesce a dimostrare, e Moser sono soltanto delle supposizioni. L'altra cosa che non piace è che Riff viene dipinto come un personaggio presuntuoso, fasullo e molto arrogante. Ma in realtà quello che scandalizza e sconcerta di più è come viene raccontata la Sontag stessa. L'accusa che Moser fa è che non ha mai dichiarato apertamente la propria omosessualità, nonostante fosse noto a tutti che dopo aver avuto delle relazioni eterosessuali con Riff in prima persona, questa rivelazione non è mai avvenuta. E questo agli occhi di Moser è particolarmente grave per una personalità della sua importanza, della sua classe, della sua intelligenza e soprattutto della sua influenza. Moser arriva addirittura ad attaccarla direttamente, di non aver preso posizione diretta in questo campo, soprattutto all'epoca dell'epidemia dell'AIDS, pur avendo scritto un libro importantissimo sull'AIDS stesso. Ci sono dei passaggi certamente importanti, il libro è estremamente documentato, Moser ha intervistato più di 600 persone e ci sono altri elementi che sono più discutibili ma comunque con i quali bisogna confrontarsi. Per esempio uno dei passaggi più interessanti è come racconti la personalità, diciamola tutta, difficile, complicata, ma sempre di altissimo livello, era una donna di straordinaria cultura e di straordinaria intelligenza. Insomma per raccontare questa personalità Moser si basa su un dato principale, il fatto che la Sontag fosse la figlia di una donna alcolizzata. E basandosi sul libro Adult Children of Alcoholics, ovvero Bambini diventati adulti, nati da una persona alcolizzata, racconta come l'autrice, ovvero Janet Wojtice, abbia delineato delle caratteristiche di queste persone che sono passate attraverso questo trauma che corrispondono esattamente alla personalità della Sontag. Altro passaggio che è risultato abbastanza scobroso è il dato che la Sontag, in un suo diario adolescenziale, e questo ha fatto bene a rivelarlo Moser, perché un buon biografo deve fare anche questo, insomma la Sontag accusa se stesso e dice di odiare se stesso per la propria vigliaccheria morale, cosa che sorprende particolarmente perché per tutta la vita la Sontag ha preso posizioni dure, forti, coraggiose, quasi sempre contocorrente. Insomma il libro è molto ben documentato, è molto ricco, è pieno di informazioni, è pieno di elementi anche sgradevoli, che però in qualche modo non aggiungono nulla alla comprensione di una personalità così importante. Ci fanno capire più la donna che l'artista, anche se il libro si chiama La sua vita e il suo lavoro, e spesso cede troppo alla voglia di stupire con dei piettegolezzi sgradevoli. Come dicevamo il libro ha diviso a metà sia la critica che l'opinione pubblica, ma è un libro certamente imprescindibile per comprendere questa donna straordinaria, di grandissimo livello intellettuale e culturale. E come dicevamo rimarrà anche per una unicità che prescinde dalla rivelazione di aneddoti delle volte superflui, il fatto che l'autore Benjamin Moser in corso d'opera ha smesso di raccontare su Sonsontag ma ha cominciato ad attaccarla. Un saluto da Central Park West. Grazie a tutti. Grazie a tutti.